un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale youtube figlio al prodigio 65 della pagina facebook agro scop un saluto di cuore a tutti gli amici di tik tok agli amici di x agli amici di instagram alle pagine facebook e dobbiamo essere in tanti perché più siamo meglio come dico sempre quindi per quanto riguarda soprattutto il rispetto del progetto figlio poi 65 agro scop di cosa andiamo a parlare oggi oggi chiaramente ne parla qualche blog ancora credo che la bomba debba scoppiare praticamente maria de filippi e la sua società sono stati denunciati dal codacons per truffa ai danni dei telespettatori e se si è messo di mezzo il codacons per la regina della televisione dobbiamo aspettarci dei giorni amari che cosa è successo amici miei e dove si appoggia la denuncia del codacons ricordiamo è l'associazione a tutela dei consumatori intanto vediamo quali sono i programmi secondo i quali il codacons maria de filippi avrebbe truffato i suoi telespettatori facendo milioni e milioni di euro per quanti guarda gli sponsor e le pubblicità appunto al suo all'interno dei suoi format i programmi nell'occhio del ciclone sono tre sostanzialmente il primo è uomini e donne il secondo è amici e il testo è c'è posta per te quindi il terzo sarebbe questo chiaramente è fuori per adesso tu si che vales quanti guardi concorrenti eccetera ancora lì pare che non si sta parlando niente e soprattutto quello che sta per partire in questi giorni temptation island e ancora su quello non c'è detto non si è detto nulla però tre praticamente per questi tre programmi quindi ripeto uomini e donne amici e c'è posta per te maria de filippi e il figlio gabriele costanzo sono stati denunciati dal codacons per truffa andiamo a vedere che cosa è successo in santo andiamo a uomini e donne a uomini e donne vuol dire lei ha fatto un'intervista qualche giorno fa la grande regina della televisione ha detto soprattutto uomini e donne voglio cambiare tutto e a partirò a settembre con una bomba di quale bomba chiaramente in senso buono del termine no nel senso diciamo più alle allegorico possibile di quale bomba stava parlando maria de filippi era evidente che sul trono dovrebbe sedere usiamo il condizionale perché non hanno ancora scelto la riserva gianni sperti pare che sia contrario a sedere sul trono di uomini e donne per una specie di sua identità sessuale perché a questo punto viene fuori che alla fine o emosessuale oppure non si sa a questo punto no ci viene il dubbio tina cipollari ha lasciato qualche spiraglio a maria de filippi potrebbe essere lei ad aprire la nuova stagione di uomini e donne sul trono ma diciamo che il dubbio al codacons è venuto soprattutto lasciamo stare i casi di ida platano quindi che sono stati già e acclarati come truffa quello di armando incarnato che è stato acclarato come truffa quello di elma di gemma galgani gemma galgani acclarato come truffa roberta di padua acclarato come truffa sono tanti vuol dire che sono stati scoperti con diciamo le mani nel miele ma vediamo che cosa è successo praticamente per questo riguarda soprattutto gli ultimi giorni a quanto pare dopo che diversi blog hanno scoperto questo passato a luci rosse questo passato oscuro di tini cansino maria de filippi ha dovuto prendere atto che tini cansino non debba essere più presente all'interno di uomini e donne quindi manda via tini cansino a quanto pare non ci sarà nel mese settembre e al suo posto immaginate chi chiama chiama jack varone e si butta la zappa sui piedi la cara regina della tv chiama jack varone già è stato opinionista presente senza mappi le bocca quindi è stato presente già come quindi vicino a tina vicino a gianni quindi chiama continuamente aprirà quindi con questa possibile bomba di tina cipollari sul trono e di jack varone jack varone quindi come open open leader opinionista ma chi è questo jack varone questo jack varone entra nel mondo di uomini e donne nel 2007 prima come prima 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 fa il corteggiatore poi va sul trono e poi diventa improvvisamente opinionista ma si scopre quindi moltimamente le indagini vengono da molto lontano si scopre che dal 2007 al 2013 questo personaggio è stato compagno fedele di raffaella raffaella mennoia che è praticamente il braccio destro il braccio destro di maria de filippi a uomini e donne sono stati sei anni insieme quindi quando questo ha fatto il corteggiatore poi fatto il tronista e diciamo che questo è la cosa più grave perché tu eri una persona impegnata stavi con un'autrice di uomini e donne quindi con uno con il braccio destro con il cui la maria de filippi si fida diciamo ciecamente e poi questa questa donna con la quale pare che sia rimasto amico eccetera gli dà la possibilità di fare l'opinionista la storia finisce nel 2013 per gli innumerevoli tradimenti da parte di lui tra l'altro lui ha una malattia abbastanza importante autoimmune che cura con farmaci molto molto pesanti il coda con sui andando a ritro a ritroso vedendo tutte le puntate eccetera questa diciamo che sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso ripeto lasciamo stare le farse di ida platano che è stata una farsa quella di armando quella di gemma quella di roberta quello di riccardo guarnieri l'operaio quello aveva già la compagna quindi veniva pagato 2000 euro e a settimana per stare all'interno quindi maria de filippi ha preso in giro la gente perché diciamo quel format fa tanta tanta pubblicità ai danni della ingenuità della gente quindi come faceva questo jack varone a stare a fare il corteggiatore può andare addirittura sul trono sul trono ci va nel 2008 nel 2008 era il compagno di raffaella ma mennoia mennoia quindi braccio destro addirittura braccio destro di maria de filippi quindi maria de filippi ha messo sul trono una persona che sapeva benissimamente che era fidanzato poi sono lasciati nel 2013 e questo quindi standard quindi chiaramente hanno tutte le prove per incriminare maria de filippi e il figlio oggi visto che non c'è più marizzo costanzo e gabriele costanzo quindi titolari della fascino pgt che produce uomini e donne passiamo ad amici e qui scatta tutto quando valerio scano quindi valerio scano che ha partecipato amici ha vinto anche il festa di sanremo nel 2010 quindi è molto conosciuto della sardegna ma anche in italia vuol dire ha sposato si è sposato da poco quindi con un genio un ingegnere in forma di eccetera dice improvvisamente guardate che ad amici è tutto falso si usa addirittura il software per quanto riguarda le canzoni i cantanti che stonano quindi c'è chiamato autotune questo questo è stata fatta anche per mesi e mesi mesi da yuka da luca yurman luca yurman che è stato un vocal coach per diversi anni ad amici fino a quando poi maria de filippi l'ha mandato via perché non voleva che si usasse l'audiotum dice guardate che maria de filippi durante il periodo estivo ormai da tanti anni fa dei concerti e lì produce la fascino pgt chi chiama in questi concerti maria de filippi e oggi con il figlio ripeto gabriele costanzo chiama tutti i cantanti che non ho avuto fortuna ad amici oppure quelli che sono rimasti simpatici eccetera quindi e fa questi concerti in tour per tutta italia quasi sempre sono pubblicizzati dalla coca cola quindi ripeto il marchio coca cola che dà un sacco di soldi al format di maria de filippi infatti spesso si chiama coca cola summer eats io non sono stato mai invitato mai invitato perché ho avuto il coraggio dice valerio scano di dire che ad amici è tutto un imbroglio non c'è niente di vero non c'è niente di vero e poi a un potere contrattuale con continua valerio scano appoggiato anche da luca jurman maria maria de filippi ha un potere contrattuale così forte che nessuno dice niente e soprattutto è quella che spesso decide chi deve vincere il festa e serremo come dice valerio scano è stato nel mio caso io era stato eliminato quindi all'epoca c'era ancora le eliminazioni quindi ero stato eliminato quindi poi mi hanno ripescato quindi e ho vinto il festa di serremo contro pupo quindi poi c'era il cantante lirico e poi c'era emanuele filiberto quindi io ho vinto quell'anno quel festa il festa delle polemiche e questo riguarda amici chiaramente sono andate a vedere tutte le denunce tutti i cantanti che hanno vinto amici quale fortuna hanno avuto quanti hanno partecipato all'interno le domande come stanno fatte eccetera e quindi e questo riguarda amici quindi la veridicità di quante volte sia stato usato l'autotune vale a dire questo hardware questo o meglio scusatemi questo software software non hardware software che ha fatto vincere i cantanti oppure ha resi importanti cantanti che non sapevano assolutamente cantare e come diceva jurman gli dai in mano una penna a un giornalista che non sa scrivere e questa in sostanza la cosa passiamo al terzo programma quello che fa il record di ascolti quindi e c'è posta per te il codacons dice sono arrivate milioni e milioni di email milioni e milioni di richieste al programma c'è posta per te non hanno avuto mai risposta quindi parliamo di email di whatsapp di chiamate eccetera quindi un consumo mostruoso da parte dei telespettatori come con quali con quali criteri vengono scelti appunto le persone che partecipano a c'è posta per te e quante sono vere queste storie molta gente ha scritto al codacons che sono tutte delle farse molto moltissime sono delle farse meglio non dire tutte perché altrimenti poi rischiamo qualche cosa in più quindi diciamo che sono tutte delle farse che ti dice la redazione e gli autori quello che devi dire e quello che devi fare nella maggior parte dei casi che non c'è niente di vero quindi sono state anche gente che ha partecipato a c'è posta per te e che è finita la trasmissione praticamente come un po i forum ecco dove sono tutti attori lì non c'è niente di vero a forma amici miei quello della palombelle è tutto una farsa e lo stesso pare che sia a c'è posta per te molti parlano ma è possibile qui vanno padri madri figli contro figli tranquilli che decide tutto gli autori e in particolar modo decide tutto maria de filippi arrivano milioni di email e milioni di richieste di partecipare a c'è posta per te lei con quale criteri sceglie vuol dire le persone che devono entrare all'interno del format tra l'altro è un format molto molto costoso perché prevede due ospiti quindi uno all'inizio e uno alla fine del programma sono spesso ospiti o nazionali o internazionali quindi che costano un sacco di soldi che produce la fascino pgt e che vende a mediaset e c'è stata gente che ha detto noi abbiamo fatto soltanto la comparsa poi hanno fatto tutto lei ha scritto anche lei come vedete come vedete spesso quando si tratta di queste storie lei legge molto io ho visto qualche video lei legge molto di lei si è tutto inventato praticamente tutto inventato da parte di maria de filippi questo dice il codacons si tratta di truffa aggravata nei confronti dei telespettatori vediamo che cosa succede quindi parliamo di a tra l'altro vi dico un'altra cosa tornando indietro parliamo di uomini e donne uno di di questa stagione di cui si è parlato molto è stato questo ernesto russo questo sandogan dei poveri questo con i capelli pazzi barba eccetera questo poi è stato cacciato perché si era scoperte delle segnalazioni questo amici miei appena uscito da uomini e donne si è sposato si è sposato aveva avuto per tutta vogliamo dire uomini e donne una compagna aveva questa compagna da quattro anni e si è sposato dicendo che lui è andato via da uomini e donne perché gli venivano tagliati tutte le parti quindi tutti i pezzi dove lui diceva che aveva interessi all'esterno per maria dei filippi era importante tenerlo all'interno del programma perché questo fatto di avere i capelli alla sandogan questa barba all'uomo di nindertal o di nindertal come volete voi eccetera quindi lo teneva all'interno quindi immaginate quanta truffa e quanto brogli ci sono all'interno di questi programmi questo riguarda ripetendo ripeto uomini e donne per quanti amici ne risponderanno chiaramente valerio scano luca i luca iurman dennis fantina sergio silvestre tutti hanno detto la stessa cosa sono tutti in sintonia vale a dire non c'è niente di vero quello che accade e come mai ha vinto io vi chiedete angelina mango perché maria dei filippi ha deciso di lanciare angelina mango che voglio dire sì canticchia per carità non voglio mettermi contro voi amici miei dei follower assolutamente però dico canticchia non è bella a vedersi non è una bella donna non vuol dire infatti all'erovicio son contest è arrivata settima non è che l'hanno premiata e non è che c'era tutta questa grande gara vuol dire come gli altri anni dove c'erano canzoni davvero belle da tutta europa quest'anno poteva davvero stravincere lei invece l'hanno fatta arrivare solamente settima anche perché tutto parte a monte al festa di sanremo anche lì sono stati dei problemi seri come si dice avrebbe dovuto vincere jolie che sta facendo sold out quindi con migliaia e migliaia di gente che lo che lo guardano quindi che vanno ai suoi concerti e sta spopolando parlando la lingua napoletana che non si capisce niente io sono del sud come lui però vengo sto a lecce non so una parola di quello che canta quindi io quando non capisco le persone che cantano io non mi piace io cambio subito io devo capire cosa dicono quando soprattutto la musica ma anche qualche volta cerco di capire che cosa uno che parla nel suo dialetto è improponibile io non lo posso ascoltare quindi amici e poi c'è posta per te quindi dove sono arrivati ripeto milioni e milioni di email milioni e milioni non ha risposto mai nessuno quindi o si rispondono raramente per non dire magari qualcuno di voi ha chiamato eccetera io ho chiamato per esempio e ho beccato c'è posta per te devi dire la verità quindi ho preso anche appuntamento appuntamento che me l'hanno dato e me l'hanno disdetto dieci volte mi hanno disdetto quel famoso appuntamento dieci volte e vi ho detto tutto amici miei questo sono era il video di oggi sono le notizie di oggi se ha fatto piacere sentirvi come sempre un bel segui per quanto riguarda i social iscrivetevi al canale youtube filopodico 65 quindi il like aspetto i vostri commenti perché è una notizia abbastanza importante vuol dire maria dei filippi quindi è la sua società denunciati dal quota cons per truffa quindi ai danni dei spettatori vediamo che cosa sottotterà nei prossimi giorni intanto lei tranquilla riparte a settembre ha già venduto i format a mediaset per un costo complessivo di 500 milioni di euro in più il 5 per cento delle pubblicità all'interno dei suoi programmi immaginate quanto se ne freghi lei del quota con c'è ma il quota cons è dura amici miei non dimentichiamo che ha fatto saltare un diciamo una persona inimmaginabile che era che era chiara ferragni amici miei come dico sempre in queste circostanze dobbiamo essere insieme e gridare alla verità insieme quindi più siamo meglio è più grande è la nostra cassa di risonanza vi voglio bene alla prossima